Nel suo intervento il Bundestag alla vigilia del Consiglio europeo straordinario a Bruxelles, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha invitato gli alleati filo-Ucraina all'unità, affermando che la gara che offre più aiuti a Kiev non fa altro che aiutare la propaganda russa. Con 12 miliardi di euro l'anno scorso, la Germania è stata da sola al fianco dell'Ucraina e i suoi cittadini e cittadine e porteremo avanti anche quest'anno questo grande sostegno. E di fronte a chi continua ad accusarlo di non fare abbastanza per aiutare l'Ucraina, Scholz risponde Dal primo giorno della guerra una cosa è vera, la coesione dentro l'alleanza e con i nostri alleati è il nostro bene più prezioso. Manterremo e rafforzeremo questa coesione mentre prepareremo decisioni prima confidenziali e solamente dopo le comunicheremo. Ciò che invece danneggia la nostra unità è la pubblica offerta del tipo, carri armati da combattimento, sottomarini, aerei, chi offre di più. Perché ogni dissonanza, ogni speculazione su possibili differenze di interessi vanno a vantaggio unicamente di Putin e della sua propaganda, ha concluso Scholz dicendosi convinto che il presidente russo non raggiungerà i suoi obiettivi.